Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su .attac.gu, l'astroi code. Ci troviamo a Lumina Glot perché dobbiamo però appunto andare a fare il nostro turno all'arena. Come potete notare, Atoli è ancora offline. Sillabus quindi è l'unico che possiamo inviare nel party. E vorrei farmi notare che Pyrrhos è busy. Ed è busy esattamente perché sta proprio dove l'abbiamo lasciato ancora. Aspettando Troy Edge. Credo che ci toccherà affrontare questo scontro in due. A meno che Atoli non fa una comparsa all'ultimo momento, ma ne dubito. E vediamo un po'. Tornamento. Natalie è in ritardo, non è? Eh già. È in ritardo. Sì. Ha detto che sei venuta, quindi non mi preoccupo. Sì. Molto lo guarda, Sia. Ma che... Chi ha detto che sono preoccupato? Sono qui. Sì. Sono molto felice che ho fatto un tempo. Ho fatto un tempo. Sì. Ha successo qualcosa, Atoli? Ma ascoltate, mentre ero sul bus, mi sento a dormire. Sì. Ma il mio tempo è finito all'ultimo stop. Mi pensavo, oh man, dove è questo posto? Svegliate il capoline. Eh, buoni. Il match è about to start. Let's go, everyone! Ok. L'unico problema che ho con Atoli è che essendo stata completamente assente nella fase precedente, io ho fatto la quest, l'area che Gaspardo ci ha illustrato per... Ah no, di livello 30 comunque, pensavo peggio. Infatti vedete che c'è un po' di scarto. Tanto io vorrei anche regalarmi. Anzi, c'è uno trade. È qualcosa di figo? Earth Attack. Niente di particolare. Allora, facciamo così va. Ti regalo direttamente un'arma di livello più alto per te. Livello 32, non la puoi usare. Vabbè, per il futuro. Adesso tu che arma c'hai, Atoli. Non è per farmi fatti tuoi, però... Equipment. Vabbè, ne andiamo un attimo così. Start Battle. Speriamo bene. Oh, Kuni, stop that! What? Hey, hey, hey. Sto sicuro che tu due ti fai queste cose anche, certo? Oh, non lo faccio. Ma se sei tu, Kuni, allora potrei fare un'esercizio. Me, me, too! C'è anche il principale, a quanto pare. Hey, what's up? Well, sembra di essere piaciuto te stesso. Ci sono dei motivazioni profondi, profondi quanto l'oceano, per questo. E' stata una mini-esplosione quando ha dato il calcio? Questo è considerabile BVP? In città? Il ragazzo ha i suoi alti e basi. Ok, Kun pensa che ha una chance, fai no. Aspetta, e poi pensa che non... Haseo non ce la possa proprio fare. Sì, sai cosa il tuo biggest valore è? È che tu sempre ti fai fuori da alcune conclusioni inconvénienti. Anche se in realtà tutti si pare, sembrano dimenticarsi che Haseo comunque ha fatto la sua esperienza in The War, da che si sarebbe stato il personaggio. Non c'è nessun modo che Haseo possa vincere questa combina, non senza usare l'avatar. Sì. Cosa significa che sicuramente lo uscirà. Quando questo succede, quando lo uscirà, cosa farai fare? Fai a paura che Haseo usi l'avatar. Anzi, è sicura che Haseo lo userà. Conoscendo Haseo potrebbe benissimo essere una cosa sensata. Ma quanto questi snob? Quante snob. 36, 35, 35 su di livello alto. Sono tutti i Twin Blade. Non c'è nessun messaggio per lei? Se vuoi per la gloria, sei forte. Ok, allora. Come se vuoi un commento sull'avatarso team Haseo? Non c'è nessun testo. Soprattutto Adoli. Eh, grazie. Ok. Vieni, vieni, vieni. Ti prenderò in un instante. Allora, mica ce la siamo tolta. Vabbè, in realtà sembrano avere abbastanza poca vita. Rangeti, in alto non puoi. Non puoi perirmi. Ok. 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 Sì, che tipo di attacca era questo? Sì, Sera. Spero di perdere? Che? Pensi che puoi venire ogni volta? Al-Kaid è un molto forte lontano. E c'ha ragione, eh? C'ha ragione che lei è proprio più forte di lui. Vabbè, era prevedibile che finia così, eh. Allora, aspettate. Spero di prenderla senza usare il mio auto. Non è un posto in cui puoi prenderla solo perché sei morto. Non è un posto in cui puoi prenderla solo. Sì, non lo so. Sì, non lo so. E' visto la faccia terrorizzata mentre l'attaccava. Vediamo che dice sto giro Lo snop definitivo Ok mi parecia ripresa So, you're nothing more than a big fat cheater as well I'll never forgive you Lo vorrei vedere E' che c'ha ragione in realtà, non è che ci ha tolto, c'ha proprio ragione Qual è il tuo piano? Qual è il tuo piano? Lo stanno un po' frentendendo Beh, vorrei mostrare il quale fulgico è Mi insegnerò quanto può essere terrificante un avatar E ci sta, per forza Ah, in una nuova mail Strane voci Sei stato grandissimo nelle semifinali Congratulazioni Comunque ho trovato questo post Nella baghega degli rumors Pensi che ha qualcosa che fai con Try Edge? Allora Penso di aver di fatto incontrato Try Edge Cioè, se il posto fosse a Moriboro Vabbè, uno dello Sground Mentre stavo lì Pensando ai fatti miei Tutto iniziano Tutto ad un tratto Un'ombra gigante mi è arrivata alle spalle Quando mi sono girato in sorpresa Ho visto occhi rossi parlare a me Mi sono impanicato e sono scappato Sembrava una storia dell'orrore Moriboro Esatto, è l'area dove siamo già stati in precedenza di solito Ok Anche se penso che la persona è più smalizziata Avranno ben capito che Try Edge non è proprio un gigante Quindi quell'ombra gigante alle spalle È un po' strana, no? E andiamo E' di nuovo qua Hidden Forbidden Bulk Walk Bulk Walk E invece sta ancora lì È ancora qui? Dammi Cosa Cosa ti è arrivato? Eh Ehi Sì 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 Ah, non si sveglia, andrò a tornare in città. Qualcuno è molto antipatico, in realtà, e Sakaki. Eh? Cosa sta facendo qui? Atoli? Bene, Atoli, senti qualcosa? Sì, è molto piccolo, ma sento un suono. Vedo, allora senti qualcosa dall'altra parte della parete? Sento qualcosa dall'altra parte, ma è veramente diverso da questo. Allora sembra che mi sbagliassi. È troppo male. Pensavo sicuramente che il corpo principale di questo sarebbe dormito qui. Non ti preoccuparti, è tutto bene. Non devi scusare. Ho grande fiducia nelle tue abilità. Grazie molto! Sakaki, sono felice di poterti aiutare in questo compito. Vedi che sono sempre qui per te. Ci sono sempre per te. Molto bene. By the way, hai notato alcuni cambiamenti in Aseo? No, non specialmente. No. Allora è tutto bene. Perchè continui a mantenere un occhio su lui. Sto contando su te. Nel fine è ancora Sakaki questo, Sakaki quello, Sakaki tutto. Tutto bene. Sembra che mi abbia anche in alcuni occhi. Ma ancora... Cosa stavano dicendo a sentire un suono? Perché mi sono diventato tutto lavorato su questo? Beh, è quasi il momento per la finale round del tournament. Credo che andrò a guardare un'email o qualcosa. E infatti c'è la mail. Ah, ci sono due. Sì, la buss, sono nervoso. Alkaid era veramente forte mi ha fatto realizzare che contro l'imperatore che significa andare contro l'imperatore ma tu sei stato veramente fantastico, non posso rivedere quando sei riuscito a sconfiggere in un istante una persona così forte ah e ho trovato ho giusto scoperto dall'email che il nostro prossimo avversario è Kun non so davvero se posso scontrarmi con lui comunque immagino che la miglior cosa da fare sia continuare a livellare questa è una varia perfetto e qua ovviamente ci sarà l'invocazione la convocazione Thunderstorm Team Aseo contro Team Thunderstorm, leader Kun oggi combino con Kun dovrei andare a registrare una volta che vado questo match posso combattere Endurance io direi di fare l'area che Syllabus ci ha consigliato tipo off screen e poi andare diretti a fare proprio lo scontro con Kun magari sempre in questo episodio potrebbe andare bene ed eccoci qua Alluminaclot è il momento di farci l'ho scambiato per Piros non mi chiedete come ma l'ho scambiato per Piros dicevo è il momento di andare a fare lo scontro con Kun ho fatto la quest siamo saliti di livello come potete notare 38, 37, 36 ah e ho equipaggiato le tue lame perché volevo variare un po' ah niente niente chiacchiere ok start battle siamo siamo combattere Kun hey uh Haseo cosa devo fare come devo combattere il match è iniziato non tenere così buono è Kun certo? conoscendo lui potrebbe perdere di proposito sto riconoscendo Ogo ok ma oh ma cosa faccio? sarà bene Silvus ora andiamo per questo usciti di epitaph non dovrebbero mai usare avatari ma contro cose come Ida Kun non ha riconosciuto il mio potere ma non cambiare come faccio cose e vincere no ma ma no quale so proprio divergenze ideologiche quelle tra tra seo e Kun siamo in finale del DEMON PALACE tournament qui è il nostro commentatore per oggi per per se si 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 è Mr.Yada da la raven è piaci con noi oggi Come Gildmaster Raven, cosa pensi di Team Haseo? Spero che il Team Haseo faccia stando nel torneo. Ma credo che ci sono tre principali razioni per cui sarà difficile per Team Haseo vincere questo match contro Team Kuro. Ma ci sono tre motivazioni per cui sarà difficile che vincono e vincano. Quanto conoscono bene il loro personaggio. La seconda è l'esperienza con le battaglie in arena. E la terras? E la terras? E la terras? Cosa stai facendo là? Ha 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 ha! Non ti ho detto? Non! Non dovrebbe essere un problema se io sono il tuo oponente. Tu lo vedi a qualcuno, no importa chi sono. È quello che ti ho detto, non è? E la terza ragione è la forza della loro convinzione. La forza della loro convinzione. Non accetterò mai quello che stai facendo, Haseo. Non accetterò mai quello che stai facendo, Haseo. No, non per tanto tempo che mi sento. La tua filosofia è sbagliata. Pensi che tutto è bene per tanto tempo che vieni? Qualcunque è permesso? Ti ho pensato? Non ti ho pensato che non è worth ottenere il tuo obiettivo se ti rilassi altri. Vincere non è tutto. Ti farò riconoscere il mio potere! È proprio che ambiente rilassato che abbiamo qui, eh? Abbiamo Antares, Kun e Pai. E qualcosa mi dice che Kun vorrà utilizzare il suo avatar. E Kun sembra abbastanza forte, eh? Forse dovevo tenermi la spadone che può rompere le difese. Qua è principalmente per togliere le scatole. Provoro. E quindi l'arma che abbiamo adesso permette di fare danno critico se colpiamo le spalle qualcuno. Eh, io uso il Beast Awakening, c'è poco da fare. Ho già finito? Ah, due volte l'ha di meno che si vede in... in... in arena. Alla metà vita l'abbiamo portato. Dammatelo! Perché? Perché... Perché vi mettete in mezzo? Ok Ah ma se sta in... no no Ok Grazie a Kuhn per avermi illustrato Che se sta in difesa Blocchi anche l'abilità Ah andare scura anche a quanto pare E non un vino di sorprese Appena abbassa la guardia L'ha rialzata subito No E qui avrei dovuto fare un counter Peccato che Kuhn è abbastanza sveglio da non farsi Counter attack Kuhn è abbastanza sveglio da non farmelo fare facilmente Ma mi sembra che non ci sto facendo nulla Ho visto a Wiggening di nuovo Vai Non so chi ha fatto il contro attacco Penso assi la bus a quel punto Anche perché A buono io te lo faccio io però 79 Di danno Fia di vita Fia di vita Fia di vita Fia di vita Perché 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 Continuate a mettervi in mezzo Perchè continuate a mettervi in mezzo Tirate via altrimenti mi mangerò vivi era prevedibile era prevedibile anche la risposta di Kun ebbene sì battaglia contro Travata contro Megus non riesce proprio a colpire ok c'è quella protezione che va rimossa oh picchia forte ok almeno quando hai tolto la protezione va giù abbastanza in fretta ok Megus sembra un tipo molto più difensivo di Tauros tra l'altro Megus è la terza fase ok schiva i laser schiva i laser ok proprio così un po' di rimba ah mi devo distruggere sta roba mi colpisca alla fine sto prendendo più bottiglia di quanto mi stia prendendo lui non mi piace molto sta situazione ok grazie anche se una volta che gli butto giù le difese flash of green lampo verde è sempre quello di prima ok per forza sparando gli devo distruggere sta cosa però fondamentalmente sto in vantaggio io un pochettino dai scrive laser ok ok un forgiving bud e quindi devo dire una schiava di sta roba se riesco a distruggere dai oh mi sembra tutt'altro che difensivo in realtà perché non riesco non riesco a trovare un'apertura per attaccarlo e attacca senza sosta dannazio alleluia ok sarebbe bello poterlo ferire come si deve però che poi all'inizio è facile distruggere i pedali che c'è qui però progressivamente diventa sempre più difficile perché ovviamente ce ne sono di meno vai ne rimane uno ne rimane uno e io sono ancora a metà vita circa nooo un forgiving bud vabbè dai diciamo quello che Q1 è abbastanza è molto piuttosto di quanto fosse Pai di quanto fosse Tauros alleluia non vorrei fare gli acuberi dati eh faccio come on come on come on come on come on who of a Berserk Sta decisamente andando in Berserk No, così non va bene No, così non va bene Cosa c'è? Stoppito No Ci sta andando troppo pesante Non c'è Non credo necessariamente una traduzione Abbastanza Fermati Fermati Ma Haseo Koon Koon Stai bene Io E' questo coi punti? No Non è quello che sarebbe dovuto succedere Capisci? Gli avatar amplificano la parte oscura del tuo cuore Non è qualcosa che si supera facilmente Di essere sempre preparato a perdere qualcosa prezioso per te E' anche preparato a proteggere qualcosa prezioso per te Ma se la sta giocando Ma c'è ancora forza Porca stoppito Koon Rai 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 Io credo Non ero mai stato pronto per questo tipo di cosa Rai 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 Malditura sulla fuga di Zadish Ricordo che il primo colpo è scattato di mobilizzare il secondo quello che succede veramente Se non è questo un trauma Cosa? Cosa c'è che non va a Seo? Quella espressione non è da te Hai usato l'abilità della propagazione, non è vero? Il mio avatar è un bravo ragazzo Propagazione? Sì, è la specialità di avatar speciale Quando è usato, ha il potere di propagare tutti i tipi di dati E la specialità del suo avatar permette di propagare i dati E propagare i dati per far da match a quelli che Seo ha strappato via Sì, è esattamente vero C'era che tu avessi avuto, Pi Tu idiota Perché tu avessi avuto tutto per te stesso? Tu, tu potessi diventare uno dei lost ones E gli idioti possono solo pensare di idee idiotiche Perché tu? Stop! C'è abbastanza di studiare Ora, allora Lasciami parlare Mi arrendo, aiuto Mi arrendo, aiuto Io non so presente cosa hanno visto i spettatori Ehi, ora Mi avessi fatto abbastanza bene qua, non mi? Tu pensi che puoi essere un po' più bello da me? Solo faccia quello che vuoi Come va, Pai Come ti ho detto Vincere non è tutto Non ti preoccupare Non fare lo stesso errore di nuovo, ok? E' afferata a lezione? Non so neanche in grado di controllare il mio potere Ok, Antares non conosce nulla Non cambiare ciò che ho avuto a insegnare E non è ancora bene Quando l'utilizzo diventa l'utilizzo Sì In ogni modo, figlio Tu sei la vittoria E sicuro che ti metti in una battaglia Che valore dei miei discipoli Alla fine, Antares prova soltanto aiutarci E ormai ha deciso Antares che sei il suo discepolo Il team che ha conquistato questo tournament È nulla oltre che il primo contender Team Haseo Questo team è famoso per le loro vittorie E hanno guadagnato il dito per affrontare l'Empero Perché pensi che abbiano perso? Così ha mangiato Magus Devo pensare meglio ai suoi futuri assegnamenti I suoi futuri incarichi più che altro Sì perché di fatto facendo il data drain Assorbiamo i dati di quello che targettiamo Bene, io direi che per questo video è tutto I dati della fase 3 del... Ah Fase 3 epi... Ha acquisito il genoma di alcuni dati Fase 3 epitaph Alleluia Dicevo, direi che per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Come al solito un commento di piacere Non ti usate sempre che dite Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.